ciao a tutti voi pacchiotti oggi come vedete siamo di nuovo su Arena Renovation allora andiamo a caricare le due partite che abbiamo fatto il gioco ovviamente come vedete è ancora in accesso anticipato eccoci qua abbiamo finito a fine mi ricordo più come si fa avendo così il nostro affare ok adesso no allora 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 se no è resto qua io sto qua spero un secondo non mi ricordo più ah allora questo qua si siamo finito ok come vedete siamo in un campo di calcio quello era questo è quello della demo guardate abbiamo con il tabbo ovviamente mostrato la solita roba con il dito pulitrice andiamo a pulire sta roba tutti questi graffiti un nuovo talento ci mettiamo ci mettiamo ci mettiamo ci mettiamo l'idro pulitrice è ancora più veloce 400 buono c'è un altro questo è quello vedete adesso come siamo veloci con l'idro pulitrice per pulire sta schifo allora qua abbiamo la mano tutti i detriti altri detriti qua non ci stanno no no Sassi normali, allora qua sono sassi normali, ok, vediamo altra monedza qua se c'è, abbiamo 15 da buttare, ok, qua sono delle sedie buttate così a cavolo, adesso possiamo, se arrivo a prenderlo, ok, ok, l'ho completato, ok, figuriamoci, ok, ok, ah, ma mi ha dato una lagata, fa niente, allora, adesso andiamo a tagliare le seppie, ok, ho bisogno di risollarlo anche, ahimè, allora, dai, dai, su, veloci, veloci, va no, O, e te iame la croci Stai un mio tutto Ok, montagna tutta, troppo lontani, c'è ancora un pezzo qua, ok, l'altra si è per qua, poi ho tutta l'immondizia, guarda, tirare via ragazzi, ho i pacchiotti miei, allora, buono, cos'è altri, dai, tutta sta, sta, oh, ok, ci sono altri, ok, quante scepi che si sono formate su questo campo a calcio, da quanti anni non lo curavano, facciamo una ultima, ok, non trovo più scepi in giro, facciamo una ancora, ok, adesso si è per qua, ok, adesso si è per qua, non trovo scepi, non trovo scepi, in giro, non trovo scepi, non trovo scepi, ok, adesso si è per qua, ok, 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 qua c'è una rete, qua c'è una scepi, con altre scepi, ok, altre scepi, qua non ci stanno, qua, e che, un'esplosione, qua ci sono altri, ok, non dovrebbero esserci altre scepi, si, si, invece si, ok, buono, adesso qua bisogna prendere, ok, ah no, quel martello, bisogna dare martellate a quelle vecchie, seggiolini vecchi, rotti, qua c'è rotto, qua c'è rotto anche, qua c'è rotto, altri rotti, qua c'è uno, non ci stanno più, ok, qua c'è una scepi, vabbè, faremo, allora, qua vedo, qua c'è un altro, qua c'è un altro, qua c'è più niente, qua c'è tre, ok, ok, non devo essere più niente, ok, adesso, ah, questo è gli altri, impianti sportivi che, campo da calcio, qua c'è abbiamo, ah no, qui l'abbiamo fatto, ok, niente, allora, ma abbiamo il toilette, allora, qua, non ci stanno i seggiolini, qua no, tre lettere, tre, sicurezza, accessori, no, mi piace, eccolo qua, seggiolini rotti, e li andiamo a sostituire, con quelli, nuovi, qui, uno là, uno qua, e questo è fatto, ok, qua siamo fatto, yes, andiamo dall'altra parte, ecco, ha salvato, un'altra parte, si è visto, la c'è manca due, la c'è manca un'altra, l'otto, allora, ci prendiamo, di nuovo, il nostro, martellazzo, ed è un'altra, l'otto qua, ok, compriamo, i seggiolini qua, ok, uno, due, tre, e quattro, e questo lo basso essere fatto, sempre se no, no, ve lo basso a tutti, ok, adesso, la mano, niente, che scherzavo, chissà se qualcosa possiamo anche vendere, un pochetto, cosa non possiamo vendere, niente, no, no, niente, ok, con la mano, ok, con la mano, non, ok, stupendo, Ok, qua per ora abbiamo ragazzito un po' di qua. Dai, su su, adesso non possiamo prendere davanti a roba, questo qua. Questo bisogna spaccarli, questo bisogna spaccarli, ok. Ok, andiamo con il prossimo antuno, siamo finiti di fare. Ovviamente ragazzi, vi ricordo ovviamente di condividere, di commentare e di mandare tanti pollici in su, se volete. Ci arriverò a fare il canestro, grazie. Ok. Adesso. Questo mi ha fatto con un martellazzo. Ok. Buona così. Buona sarà. Lei possiamo venderlo, casomai? Ok. Adesso c'è qualcosa che possiamo vendere. Una beata ceppa di niente. Ok. Bello sapere. Adesso che cosa devo fare? Allora, bisogna mettere il tappeto urboso puttateggiato. Ok. Ci prendiamo questo qua. Posizioniamo. Posizioniamo. Ok. F per far abbassare. No, via. No, via. . Sono spaziale. Viticamp Stacy Capno. Romulovit Scoperto. Grazie a tutti. Se devo ricoprire tutta sta zoglia qua d'erba, che non è la passeggiata, sicuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao.